quest'anno quest'anno o meglio questa generazione di cpu è una farsa ok sono stato abbastanza fortunato da poter provare il ryzen 5 5600 x mandato da quel bell'uomo di marco verdoliva di mv hardware e ho provato la migliore cpu per quanto riguarda il gaming di quest'anno che appunto il ryzen 5 5600 x poi tramite gli amici di metal pc custom ho avuto la possibilità di provare il ryzen 7 5800 x 8 core 16 thread e questo processore è una bugia perché sì è un 8 core ma si comporta come se fosse un 10 core e adesso sempre tramite gli amici di metal pc custom ho avuto la possibilità di provare il ryzen 9 5900 x è un buon processore e anch'esso una bugia decisamente sì ad entrambe le domande ma prima di andare al video appunto vi ricordo che se volete acquistare un pc ed avere un assistenza dall'inizio alla fine e anche dopo il processo d'acquisto vi ricordo di andare a guardare un pochettino il sito di metal pc custom raga io non stringerei mai un accordo di partnership con qualcuno che non repudi assolutamente affidabile e trasparente tant'è che praticamente ci messaggiamo spesso e volentieri con davide a davide appunto per parlare di cose progetti e soprattutto per organizzare eventi per voi fondamentalmente quindi fatemi un grande favore andate sul loro sito se volete acquistate qualcosa e dite che vi manda il punto dg adesso però back to the topic abbiamo visto che la serie 5000 di ryzen è praticamente una delle architetture migliori se non la migliore in assoluto che md sia mai riuscito a tirar fuori fino adesso sì certo che la migliore è l'ultima uscita questo ryzen 9 5900 x è a dir poco una grande bugia ma nel lato più positivo che io possa pensare perché è l'unica cpu che mi ha fatto davvero mettere in discussione il mio ryzen 9 3950 x questo qui è un 16 core 32 thread questo qui invece è un 12 core 24 thread non è un vero e proprio 12 core perché da come sicuramente state vedendo in sovraimpressione si comporta come se fosse un 14 core della generazione precedente che cosa significa sappiamo che quest'anno la nuova cache e il nuovo processo produttivo hanno permesso ai processori di raggiungere un clock molto più alto perché questo qui arriva di suo senza toccare nulla a 4.8 gigahertz di boost su alcuni core e il grande aumento di cache praticamente questo mega modulo da 32 mega e l'accesso permesso a tutti i core a questo grande quantitativo di memoria ha permesso un aumento di lei delle ipc cioè delle instruction per clock cioè dei dati mossi simultaneamente verso il filo del discorso ma questo solo per dire che io sono ancora agitato da questa cosa solo per dire che queste queste cpu ragazzi sono fantastiche le prove su questa cpu sono state effettuate nell'utilizzo che ne farei io normalmente quindi content creation rendering video ho fatto qualche test sintetico e vi posso dire ragazzi che questo 12 core di questa generazione è una bestia di cpu tant'è che per farvi dare per farvi capire giusto una cosina un video in 4k di 10 minuti h 264 100 megabit per secondo con un 16 core viene encodato praticamente in 10 minuti mi sembra una cosa abbastanza semplice 24 fps con un 12 core che quindi dovrebbe essere un quarto più lento non viene encodato in 7 minuti e 50 bensì viene encodato in 9 minuti quindi riuscite a capire la differenza di prestazioni che c'è tra questa cpu che a al di sopra delle 700 euro e questa qui che viene a costare meno di 600 sempre con i prezzi normali non in questo dannato periodo del cavolo la cosa che mi lascia sbalordito poi è la comparison tra questa cpu e un'altra cpu della famiglia ryzen 5000 e cioè il 5800 x allora il 5600 quindi il 6 core come ho già detto è la migliore cpu da gaming il 5800 x essendo un 8 core comincia ad essere una cpu entry level per quanto riguarda la content creation lo streaming il rendering video il rendering di foto il photo merging tante piccole cose ma si vede proprio che c'è una differenza di binding tra un 8 core e un 12 core della serie 5000 perché questa cpu quindi ryzen 7 5800 x scalda da morire raga è una cpu che overclockata con ryzen master quindi con l'auto overclock come lo farei io perché mi sembra stupido mettersi a fare degli stress test e portarla al limite estremo delle proprie possibilità quindi con un overclock che farei io questa cpu era molto più calda rispetto a un 12 core e anche un clock più basso io non mi spiego questa cosa con un kraken z73 di nzxt quindi un dissipatore a liquido con radiatore da 360 mm questa cpu overclockata con ryzen master quindi in funzione auto overclock riesce ad arrivare a 5.05 gigahertz raga riusciamo a capire quanti sono 5.05 gigahertz è vero è solo su alcuni core è vero è solo nei videogiochi ma in stress test quali cinebench che è praticamente un ottimo banchetto di prova per delle cpu a più core vi posso dire che la temperatura massima è stata raggiunta a 66 gradi più o meno 66 gradi 66 gradi e 3 alla fine quello è il metro di paragone e il clock della cpu su tutti i core si è fermato a 4.6 gigahertz perché la temperatura comunque cominciava a salire e c'è stato un pochettino di abbassamento delle frequenze perché altrimenti a 4.8 ci sarebbe arrivata tranquillamente se avessi spinto di più le ventole se avessi boh non lo so se avessi spinto un pochettino di più le tensioni e quindi i volti in entrata il punteggio è assurdo vi ripeto sembra di star provando una cpu a 14 core della generazione precedente cioè se nella serie ryzen 3000 ci fosse stato un 3975 x sarebbe stata questa cpu prova l'ho provata in gaming si l'ho provata in gaming e vi posso assicurare che va anche meglio del 5600 x ma per i test per tutti i benchmark vi ricordo che oggi alle 15 saremo in live sul mio canale viola per vedere le prestazioni in gaming di questa cpu e raga credetemi non vi lascerà assolutamente delusi beh perché è semplicemente fantastica in un gioco molto molto leggero quale rocket league ad esempio il framerate con una 3080 a risoluzione 3440 x 1440 rimane fisso sui 250 frame al secondo c'è ogni tanto qualche piccolo stuttering con il mio 16 core ok perché stiamo sempre parlando di zen 2 stiamo sempre parlando di cache diversa dai ryzen 5000 e questa cosa si avverte vi dico che col 5900 x non ho assolutamente avvertito questa sensazione ma proprio per nulla davvero per nulla c'è un ma però nonostante questa sia un'ottima cpu che con 12 core e comunque un overclock abbastanza diciamo decente riesce a raggiungere soltanto i 120 watt di consumo ragazzi 120 watt solo sulla cpu c'è un ma e cioè queste cpu non hanno una grafica integrata il che pone la nuova serie di intel quindi la serie 11 forse un gradino in su data anche la scarsità di schede video sul mercato perché come già detto da altri recensori se voi prendete una di queste cpu che sono bellissime sono potentissime ragazzi sono fantastiche queste cpu ryzen e la mettete in una scheda madre il pc non si accende perché non c'è un chip grafico in grado di veicolare appunto il video se invece prendete una cpu intel di undicesima generazione ad esempio un 11600k c'è un chip grafico all'interno anche abbastanza decente e quindi questo potrebbe essere un enorme vantaggio che ha intel su ryzen ma io spero che con i nuovi ryzen che dovrebbero uscire alla fine di quest'anno con architettura 5 nanometri sarà possibile casomai integrare un chip grafico decente è per farvi capire una criticità talmente importante per me che se avessi saputo che le prestazioni del chip grafico sarebbero state quelle che sono ora non avrei scelto un ryzen 5 3400g per il mio pc da streaming rimane il fatto che questo processore è una belva ragazzi se volete avere qualche dettaglio tecnico molto più accurato perché vi ripeto sarebbe stupido secondo me provare una cpu nell'uso diverso da quello che ne farei io di tutti i giorni vi rimando comunque al video di saddi perché saddi qualche tempo fa ha fatto una recensione molto completa di questa cpu e ve lo linko comunque in descrizione per quel che mi riguarda nel 2021 se riuscite a trovare questa cpu intorno al suo costo di lancio 570 560 580 euro più o meno sul sito md magari è un best buy perché avete molti core 12 core ragazzi sono fantastici per poter streamare per poter renderizzare per fare non lo so foto ritocco per fare qualsiasi cosa avete un enorme uplift in prestazioni rispetto alla serie 3000 quindi questo qui è meglio rispetto a un ryzen 3900x per quanto riguarda il solo gaming se dovete non lo so fare appunto content creation soltanto vi tenete il 3900x ma se state adesso comprando una cpu da zero questa qui e volete ragazzi soprattutto volete streamare volete renderizzare il tutto in scioltezza e giocare ad alti frame rate questa qui è la scelta che fa per voi cosa differenzia questo dal 5950x cioè il 16 core beh non lo sappiamo ancora o meglio io cioè lo so ma non potendo mettere mano sulla cpu o meglio non ancora eh amici di me dal pc custom ecco non posso dirlo con certezza ma vi posso assicurare che non rimarrete delusi da questo 12 core ragazzi io rimango sempre sorpreso perché credevo che il ryzen 7 5800x fosse un'ottima cpu questa beh la batte davvero davvero di un bel po' detto ciò sicuramente ho fatto un macello raga perché in pratica ho finito da poco i test e sono ancora estasiato dalle prestazioni di questo di questo processore con un custom loop questa cpu vi dura davvero un bel po' di anni credetemi con una buona scheda madre riuscite a tirar fuori prestazioni davvero fantastiche io vi ricordo innanzitutto di dirmi la vostra nei commenti qui sotto di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G e oggi alle 15 la proviamo in live col setup WPC è possibile fare tutto senza che le performance vengano inquinate da cali di prestazioni e nulla ci vediamo un prossimo video sempre qui sul punto di G sempre qui col vostro G e magari cpu molto più potenti ciao ciao belli